Adesso io la do. Nella prima serata del festival era sembrata fin troppo intimidita. Nella seconda la regina dell'Ariston, Antonella Clerici, ha preso confidenza con la Kermes Canora. Anche troppo, visto che ci è scappata una gaff da Annali nel lanciare la reclame, come la chiama lei, la Clerici se ne esce così. Adesso io la do. Ci vediamo tra un attimo per un'esperienza tridimensionale. Evidentemente nell'intervallo pubblicitario qualcuno deve averle fatto notare che la sua frase si prestava più di qualche fraintendimento ai limiti del lecito. E allora ecco che Antonella spazza via i dubbi. Scusate, rido, perché prima ho detto, quando ho detto, insomma ho detto adesso la do, naturalmente mi riferivo alla reclama, alla pubblicità. Perché come sempre io qualche gaffa anche al festival, quando mi rilasso la devo fare.